La situazione degli apparti sia dal nostro punto di vista molto grave perché le condizioni dei lavoratori sono minime, le retribuzioni sono al di sotto della soglia di povertà e soprattutto le garanzie contrattuali non vengono rispettate. Noi la settimana scorsa, proprio in questa sede, abbiamo chiesto alla AS l'apertura di un tavolo per verificare il rispetto dei capitolati, delle regole degli apparti e il rispetto dei contratti collettivi nazionali. Ad oggi ci ritroviamo con un'accelerazione di una di queste aziende, la Servizi Integrati, che ha deciso di passare 19 lavoratrici, tra l'altro tutte donne, il costo dei profitti che è sempre sulle spalle delle donne, di passare queste 19 persone alla Dusman, un'altra azienda con la quale gestisce l'apparto di menza e pulizie, riducendo del 70% l'orario contrattuale già basso. Noi chiediamo di bloccare immediatamente la procedura di trasferimento di queste 19 lavoratrici da un'azienda a un'altra. Chiediamo quello che già chiedevamo nelle settimane precedenti, ovvero il rispetto del contratto collettivo nazionale loro applicato, ma soprattutto chiediamo come cittadini che siano rispettati gli apparti, perché gli apparti vengono dati con dei soldi nostri, soldi pubblici, e quegli apparti salvano a garantire dei servizi, salvano a garantire che la sanità, diciamo così, sia un servizio per tutti. Nel corso della manifestazione è intervenuto anche il manager Flacco, che ha così cercato di rassicurare sindacato e lavoratrici. Queste tre informazioni vi volevo dare. Una, il 6 siete stati convocati, per cui prima del 6 non si fa nulla. E da quello che ho capito, però non è un compito mio, le ore in meno che sono previste nel passaggio su Dusman, le continueranno a fare con servizi integrali, per cui non c'è riduzione di orario. Benissimo. Queste sono le tre informazioni che mi volevo. Siamo in questa condizione e poi rilanciamo il ruolo di controllo che lei ha come direttore generale sugli apparti. Perfetto. Arrivederci. Ciao, arrivederci a tutti. Arrivederci.